Salve a tutti ragazzi, io sono Procione e benvenuti in questa nuova run di The Binding of Isaac Afterworld Plus Nell'ultima run ragazzi siamo riusciti a battere Ultra Greedier con Napoleon Soprattutto grazie al D4 che ci ha dato una combinazione abbastanza OP In questa run vorrei battere Delirium con Giuda Giuda è un personaggio ragazzi che parte con pochissimi HP Infatti come vedrete un solo cuore Praticamente qualsiasi champion ci sciotta, qualsiasi esplosione ci sciotta Però partiamo con molto danno in più rispetto agli altri personaggi E soprattutto partiamo col Book of Belial che se usato ci aumenta il danno di parecchio anche Per una sola stanza però Quindi di solito si usa o dal boss o nei momenti proprio di necessità Ragazzi che palle e sicosi che scappano non li sopporto Ci fanno perdere solo tempo Qui muschio del cazzo Allora qui troviamo subito l'item room Speriamo che ci esca qualcosa di buono, mi piacerebbe davvero tanto A questo punto ragazzi io prenderei anche un HP up E invece col cazzo mi esce un gimmick Oggetto abbastanza di merda ma va bene Adesso dicevo prenderei volentieri un HP up perché avere un solo cuore è abbastanza rischioso Proprio perché appunto ogni champion ci sciotta Ma comunque anche i nemici normali Due colpi e ci buttiamo giù Ci sono un sacco di batterie quindi direi di utilizzare il nostro Book of Belial Oh cazzo Assicceravamo vicinissimi Get out of jail Me la tengo quindi uso the word Qui apriamo Cosa c'è qui dentro Abbastanza soldi Che odio sti nemici che sono lenti come la merda E si mettono sulle pietre Devo aspettare per forza che escano fuori Lupevi soul Abbastanza inutile come drink No cazzo Troppo veloci quei cose ragazzi Ma poco male Fortuna abbiamo un sacco di danno soprattutto grazie al Book of Belial Preso di nuovo danno sono un genio Mori 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 Poco ci è mancato E ci da un magic hate bull Con una carta di the world Quindi altro schifo Magari rompiamo qualche cacca Che potrebbe sempre darci un cuore spirituale E qui c'è cancer Ragazzi hp up molto ben accetti Come ho detto anche prima E cancer ci da Ben tre cuori spirituali Qui senza segreta Vediamo cosa c'è Black lotus ragazzi Tre cuori Uno normale Rosso Uno azzurro E uno nero Davvero ottimo Quindi ragazzi Almeno per il momento La vita non è più un nostro problema E soprattutto Abbiamo ancora il 100% di possibilità Con il fatto col diavolo Che a questo punto accetteremo volentieri Proprio perché abbiamo appunto Un sacco di vita La pillola Di relax E non ci esce un cazzo come al solito Andiamo avanti Qui ci sono i due mostro champion Che Non mi fanno affatto paura ragazzi Infatti vanno giù come il burro Morti entrambi assieme Un launch Launch lo prendo dopo Qui una sister maghi La prendo Ragazzi Non so se prenderlo o meno Io non la prenderei Perché ragazzi Prenderla Vuol dire Che ci blocca nel fatto col diavolo Che può essere sia Una cosa molto buona Che una cosa negativa Perché magari nel fatto con L'angelo C'è qualcosa di OP Tipo Secret d'Art O Go Dead O magari anche Lo scudo L'Holly Mantle Non mi veniva il nome Cerchiamo di andare Nell'item room Direttamente Di trovarla subito Così con noi Eccola qui ragazzi Vediamo Ragazzi Twenty twenty Sparo doppio Davvero Buonissimo Uno dei miei oggetti preferiti Giustamente Perché OP Come la merda Ma vabbè Ragazzi Questa run Iniziata davvero Molto bene Abbiamo un sacco di danno Un sacco di Di vita Ma ci manca giusto Quel qualcosa Che la rende Perfetta O Per meglio dire OP Che ci consiglierebbe Di battere Delirium facilmente Qui ci vado Perché un sacco di cuori Ragazzi Potrebbe uscirmi Qualche pezzo di cappi Fatto con Angelo Holy water Mi fa abbastanza schifo Però qui Ucciderebbe volentieri L'angelo Perché ragazzi Il pezzo di chiave Che ci droppa Aumenta le possibilità Di un successivo Patto con L'angelo Anzi ragazzi Più che patto con L'angelo Io lo chiamerei Dono dell'angelo Perché in effetti Non Diamo nulla in cambio A differenza Dei patti col diavolo Dove Diamo via Una parte Della nostra vita Qui Stanza super segreta Esattamente Faded polaroid Probabilmente Molto meglio Di Blue baby's Friend Anzi Blue baby's soul Ah Qui una Curse of the lost Ehm Male Non malissimo Ma male Ehm Tonsil Tonsil ragazzi Me la tengo Perché Lui Incomodo Di ottenere L'oggetto Tonsil Siccome Quell'oggetto Non esce In nessun Item pull Quindi ragazzi Hanno creato Un oggetto Che non ti può uscire Se non Tramite questo Zunket Una cazzata Secondo me Ma se vogliamo Ottenere Il 100% Il 100% Quindi Sbloccare Tutti gli oggetti Ci serve Speriamo Che in questa Rango mi esca Così me lo tolgo Dal pensiero Ehm In realtà Non so Come Debo uscire Forse Devo prendere Danno Con questo Rinket Addosso Non ci tengo Ma prima o poi Danno Devo prenderlo Per forza Perché Non sono The lost Perché ragazzi The lost Per chi non lo sa OP Praticamente Non può Prendere Danno O meglio Può prendere Un danno Per stanza La seconda volta Muore Ma vedo Parecchio difficile Prendere più Di un danno Per stanza Soprattutto Con un personaggio Che Bola E Ha le lacrime Spettrali Ragazzi Giocare con The lost Davvero facilissimo L'hanno Buffato un casino In afterbirth Da quando Gli hanno messo Il L'holy mantle Ragazzi Quel coso di pietra Io so che a un certo punto Dovrebbe stancarsi Ma A quanto pare Ha deciso di rompermi Coglioni Forse ce ne sono Di diversi tipi Con ognuna idea Stiamo qui dentro E ci troviamo Metronomo Ragazzi Metronomo L'abbiamo sbloccato Ah ecco Cosa avevamo sbloccato Con Eden Cosa fa? Ah Lo attiviamo E ci dà un effetto Totalmente a caso Questo effetto però È permanente Se usciamo da qui È permanente ragazzi Però che schifo Ci ha dato Ludo technique Che sinceramente A me non piace C'è molti a cui piacciono A me Non piace Perché Soprattutto che Gli spazi stretti Come questo Non riesco A gestire bene Sia la lacrima Che il personaggio Ragazzi Metronomo Ci dà un effetto Permanente Interessante Quasi quasi Mi conveniva Tenerlo Perché a questo punto Chissà se Può dare magari Un Brimstone Forse Sarebbe Davvero ottimo Forse OP Soprattutto con La Ludo Brimstone Ragazzi Ci si rompe La run Facilmente Ecco L'unico vantaggio Di avere Ludo È che puoi metterti Dietro una pitra E Fare fuori tutto Sister Swiss Questi ragazzi Sono davvero brutti Allora Primo ci muore subito Secondo Fai Qualche cazzata No Ho detto una cazzata Ho detto una cazzata Non fare così Non fare così Perfetto 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 Ho fatto io una cazzata Allora Fatto col diavolo Cosa ci uscirà Satanic Bible La prendo La prendo Anzi Un cuore nero Ogni 6 stanze Davvero ottimo Tra l'altro Mi sembra che dirlo Avevo qualche batteria Da prendere Non questa Perché qui ci perdo I peggio cuori Ma mi sembra Che fosse peggio E invece no Proviamo ad andare Nello shop La cap Bombe Qui c'è lo shop Uuu Lo sim sale A metà E more options Entrambi buoni Un dime Tra l'altro Perfetto Qui cosa c'è Un Joker Joker Lo uso subito Perché Tanto Non mi cambia nulla Qui mi tengo La testa Di cappy Ragazzi Metronome Ci ha sfanculato La run Di parecchio Perché adesso Avremmo Double shot Davvero ottimo Invece abbiamo Sto schifo Di Di ludo Che non mi piace Fatto Come ho detto Ragazzi Infatti Di solito Non lo prendo Quasi mai E per questo Non so Nemmeno usarlo Molto bene Prendiamo La polaroid Andiamo giù Dai Diocan Ecco ragazzi Questi cosi Che si muovono Così veloce Sono Una palla al piede Qui c'è un ray Tami's head Preferisco La testa di cappy Allora ragazzi Abbiamo superato I 30 minuti Di partita Quindi Arrivare da Nel void Non è più Una cosa sicura Però Come sappiamo Come abbiamo Già dimostrato Nel primo episodio Della serie C'è sempre E comunque La possibilità Che esca Il portale Però ripeto Non so Da cosa dipende Quindi non mi affiderei Molto Ragazzi In caso Non ci esce Il portale Arriviamo Da blue baby E poi Lo uccidiamo Eccolo qui Apriti 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 Io cane Io cane Prima Prima Adesso Che run Di merda Ecco Una cosa Buona Di ludo E che Il boss Come bluut Li butti Subito A terra Screw Questa Questa è buona Qui c'è un'altra Tinted rock Ma dove cazzo Sarà il boss Stavolta Assimo insomma Anco io Come sto schivando Apriti Quando vuoi No ma tranquillo Grazie Il bello Di sto gioco Scusate un attimo Vado a farmi Un caffè Grazie Sono fatto Il cazzo Di caffè Sto coso Sta ancora qui Quando saranno Due minuti Quasi E' ancora lì Non si smuove Che bel gioco Ragazzi E ti pare Che quando si muove Mi colpisce Anche Dio e porco Ragazzi Non dimenticatelo Ma Qui c'è una Tinted rock Ci dà due Puri Allora Fatto col diavolo Vediamo cosa c'è Spirit of the night Sì Perché Lo pago Solo un cuore Andiamo sopra Ragazzi Siamo molto A rischio Abbiamo solo Due cori rossi E uno Azzurro O spirituale Chiametelo come cazzo Mi pare Mi correggo Solo due Corri rossi Qui Death Mi fa Abbastanza paura Perché Le falci Non so se riesco A evitarle Mentre controllo Ah Diokane 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 Fermati Perfetto Ah ma Ci abbiamo Due tonsil Quindi L'abbiamo preso L'oggetto Adesso Se vedete Io mi sono accorto Solo ora Molto probabilmente Ce l'ho Chissà da quanto Ma c'ho Due tonsil Appresso Che se non sbaglio Bloccano le lacrime E Fanno danno A Chi Ci va in contatto Siamo Soposo Addosso Issa Facciamo Il giro tondo Sperando di non Essere colpiti Comunque si ragazzi Se avete visto Tonsil Ha bloccato Le lacrime Ragazzi La rango Finisce qui Stata Rovinata Da quel cazzo Di Ludo Tecnic Quindi ragazzi Metronoman Non lo userò Mai più Assolutamente Quindi La run Finisce qui Per oggi È tutto Purtroppo Non siamo riusciti A vincere O a sbloccare qualcosa Forse abbiamo Sbloccato Tonsil E ci vediamo Al prossimo video Tonsil